Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Un cordiale saluto amici e amiche di TV6, bentornati all'appuntamento con il meteo. L'anticiclone nord-africano perde colpi e lascia spazi a temporali sparsi al nord e localmente anche sul lato adriatico. Tra 31 luglio e 1 agosto avremo anche un calo delle temperature piuttosto significativo, dopodiché le temperature torneranno a salire e si riporteranno oltre le medie del periodo. Per quanto riguarda questo sabato, stabile su quasi tutta la regione al mattino, dopodiché tra pomeriggio e primissime ore della sera avremo la possibilità di temporali sparsi ma anche di forte entità. Dapprima nelle aree interne, a seguire questi temporali si muoveranno verso le coste e danno luogo a Quazzoni, qualche isolata grandinata. Temperature massime tra 30 e 32 gradi, millimetro 19 e 26 gradi. In serata, miglioramento del tempo su tutta la regione. Con questo è tutto, grazie per essere stati con noi e a tutti voi una buona giornata. Letizia Costruzioni Realizziamo i tuoi sogni Realizziamo i tuoi sogni Realizziamo i tuoi sogni